Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado ancora a risolvere qualche quesito relativo ai testi d'ingresso di matematica alle facoltà universitarie. Non dimenticatevi come sempre di iscrivervi al mio canale per rimanere comunque sempre aggiornati e lasciate un mi piace qui sotto se vi va. Ma tornando ai quesiti, il primo che vi propongo dice quale delle seguenti potenze è uguale a un numero reale. Se notate sono tutte potenze ad esponente razionale, gli esponenti sono frazioni. Sono andato a riscrivere tutte queste potenze sotto forma di radicale. Come notate il radicando è sempre meno 4, l'indice di radice è pari al denominatore che compare ad esponente. Otteniamo la radice sesta di meno 4, radice quarta di meno 4, radice quadrata di meno 4, radice cubica di meno 4. L'unica che ha senso essere considerata in R è la radice cubica di meno 4. Infatti le altre tre sono prive di significato, in quanto radici ad esponenti a indice pari e radicando negativo che non hanno significato. L'alternativa corretta quindi è la D. Passiamo al prossimo quesito. Questo richiede un pizzichino più di attenzione. Dice se ha un numero negativo, quindi sappiamo essere un numero minore di 0, allora il numero 1 meno a è sempre negativo, è negativo tra meno 1 e 0, è negativo per a minore di 1, è sempre positivo. Nessuna delle risposte precedenti è corretta. Ho pensato di studiare il segno di 1 meno a. Ho posto 1 meno a maggiore di 0 e ho dedotto che 1 meno a è maggiore di 0 se a è un numero più piccolo di 1. Ma siccome sappiamo che a è un numero negativo, per gli a più piccoli di 1, 1 meno a è positivo, possiamo dedurre che 1 meno a è una quantità sempre positiva. L'alternativa corretta quindi è la D. Passiamo al terzo quesito. Nell'insieme dei numeri reali l'equazione 2 alla x più x alla terza più 2 uguale a 0 ammette quante soluzioni possiamo stabilirne? 3, 1, 2, nessuna. Ho pensato di risolvere questa equazione per via grafica, si tratta di un'equazione trascendente. Ho separato i termini, ho lasciato quindi 2x più 2 a sinistra e ho trasportato l'x alla terza a destra cambiandolo di segno. I grafici di queste due curve dovrebbero essere ben noti. Circa x alla terza è la cubica che qui vedete rappresentata in nero che passa per i punti di coordinate 1, 1 e meno 1, meno 1. Il meno produce di questo grafico una simmetria rispetto all'asse delle scisse. Ciò che ricaviamo è il grafico tracciato in azzurro. Per quanto riguarda 2 alla x più 2 sono partito dall'esponenziale di base 2 che vedete anche qui in nero che passa per il punto di coordinate 0, 1. Quel più 2 mi ha fatto traslare questo grafico verso l'alto di un ventore di coordinate 0, 2. Va quindi a passare per il punto di coordinate 0, 3 e l'assintono non è più l'asse delle scisse ma la retta di equazione y uguale a 2. Le soluzioni di questa equazione sono pari, se vi sono, alle scisse dei punti di intersezione tra le due curve grafico. Se notiamo appunto dal grafico vi è un'unica intersezione, un unico punto in comune, un'unica scissa. Questa equazione quindi ha un'unica soluzione reale. L'alternativa corretta a questo punto è l'alternativa A, un'unica soluzione. Con questo direi che posso concludere. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.